Ciao a tutti! Gli autori di giochi di ruolo si dividono in due categorie, i cazzari e i cazzoni. I cazzari sono quelli che non capiscono nulla di game design e semplicemente si sono trovati nel posto giusto al momento giusto. Oppure hanno l'amichetto che li spinge. I cazzoni sono quelli che saprebbero come si scrive un gioco ma non lo fanno perché credono che il mercato sia cattivo. E comunque sono pubblicamente impresentabili. Fine! E al pirla che sta per scrivere qui sotto, e tu in che categoria sei? La risposta è, in nessuna categoria. Io sono fuori categoria. È un dato di fatto oggettivo. Se anche tu vuoi essere fuori categoria ti invito a iscriverti a questo canale YouTube.